Antimedici, medici veterinari, andiamo a parlare di un intervento eccezionale alla neurochirurgia dell'azienda ospedaliera di Padova. Un'equip medica ha effettuato una biopsia cerebrale utilizzando un braccio robotico. L'operazione che è durata un'ora è stata tollerata bene dal paziente, un uomo di 54 anni con un profondo tumore di 3 centimetri situato nella parte occipitale della testa. L'intervento è riuscito senza complicanze chirurgiche.